Dice appunto, viva il teatro dove tutto è finto, ma niente c'è di farzo e questo è vero. E tu lo sai da prima se se è tinto, o te lo è moro, o puramente è nero. Nessun attore vero lo fa crede, spignendo forte in un'intonazione, che è tutto vero quello che si vede. Lui vuole, fa capì che è una finzione. Se gli tocca morir sopra le scene, è vero che non more veramente, sennò che morirebbe così bene. Capisci si com'è, fammi il piacere. Se morisse de morte veramente, non potrebbe morir tutte le serie. E in attesa del serale e di nuove sfide, dalla Scuola Primata d'Italia vi auguriamo un buon Natale e un felice anno nuovo. Boni, tate Boni, anche quest'anno è tornato a trovarci, è il suo periodo, il periodo dell'anno in cui è principe. Lo ritroviamo un po' cambiato, diverso da come ce lo ricordavamo, però ci fa sempre piacere il suo amico. Eccolo qui, con noi, il Natale lo facciamo entrare. Allora, buon Natale. Allora, buon Natale. Ormai l'ho scelta. Buon Natale a tutti. Oh mio Dio, stiamo perdendo il Papo Natale. Carica, libera, libera, libera. Oh, 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 buon Natale. Benvenuti a tutti. Passo subito la linea al nostro inviato Simone Nessi e buone feste. Ciao, sono qui per augurarvi un felice Natale a voi e alle vostre famiglie da parte di un'altra in scena. Ciao. Salve Chef. Dove è il piatto? Magia di Natale. E perché l'hai chiamato così? Assaggia e vedrà. Chef. Chef. Gli l'avevo detto. Oh, 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 buon Natale. Se ci diamo la mano, i miracoli si fanno. E il giorno di Natale durerà tutto l'anno. Buon Natale. Dai maltre in scena. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale.